In quel lungo corridoio avevo visto una cosa spaventosa. Un essere enorme era composto da mani che si muovevano in modo contorto. Stava cercando di raggiungermi. Cercando di scappare ero caduto. Mi sono rimesso subito in piedi in modo fortunoso, riuscendo a uscire. Ma il mistero era aver finito dentro quella casa con ricordo di esserci entrato di una spontanea volta.